Sospeso per 90 giorni il governatore del distretto di Brasilia dopo l'assalto ai palazzi del governo della capitale brasiliana da parte dei sostenitori di Bolsonaro. L'ex presidente ha intanto condannato le violenze ed ha respinto le accuse. Il mio mandato sempre nel perimetro della Costituzione, saccheggi ed invasione di edifici pubblici sono illegali. Il presidente in carica Lula ha definito quello contro le istituzioni un attacco vandolo e fascista ed assicurato che i terroristi saranno puniti in modo esemplare.